Sono tanti migranti arrivati invece in Italia, sulle coste italiane, l'ultimo sbarco risale alle ultime ore, Lampedusa. Ieri sera le condizioni del tempo non sono più ottimali. Vediamo qual è la situazione con il nostro inviato Matteo Parlato. La situazione, possiamo dirla, in miglioramento, perché ieri c'è stato uno sbarco di 47 persone da Pakistan e Nigeria, venivano queste persone, però allo stesso tempo sono state spostate da Lampedusa in altri centri in Italia circa 500 persone. Quindi il centro di accoglienza, che qui a Lampedusa era particolarmente saturo, pur se rimanendo al di sopra le sue possibilità di accoglienza, è stato molto alleggerito. Più o meno la metà degli ospiti sono stati spostati da Lampedusa, come dicevo, ad altri centri nel nostro paese. E poi, cosa ci aspetta il futuro? Secondo quello che ci ha detto la Capitaneria di Porto, siccome le condizioni meteo-marine sono cambiate, sono, diciamo, peggiorate, nel senso che siamo passati da un mare piatto e zero vento a un po' di vento e un po' di onde, per cui loro ritengono che questo possa, diciamo, trattenere nei porti libici le imbarcazioni che dovrebbero attraversare, perché chiaramente queste più che imbarcazioni potremmo riferire proprio delle vere e proprie carrette che dopo poche miglia vanno in panne e per cui devono essere, diciamo, soccorse nel canale Sicilia, nel Mediterraneo.